E' sempre la sera prima del quarto copriano di Roberto, adesso Roberto fa uno spettacolo di ballo. Vai Roberto. E' sempre la sera prima del quarto copriano. Ma stai ballando un tango tu? Sei stanco? No. Adesso facciamo la nana. Sai che facciamo la nana facciamo? No, adesso facciamo il ballo di la nana. Si ballo la rana? No. Sai che ballo è il ballo di la rana? No. Ma ne hai imparate l'asilo questi balli qua? Si. Hai imparato proprio bene? Sono contento di come spendiamo i soldi per andare all'asilo. Ah, che bravi bestie. Bravo Roby, bravo. Attività motore. Cheese. Cheese. E si, come il flash dance, sempre sorridere. Ma la baci anche qua. Anche a me baci. Ecco. Finito il ballo della rana, è finito? Della rana o della nana? La rana? Adesso è il ballo della nana. Ancora. Quello di prima era della nana, adesso fa quello della nana. Si, se ne è uno per ogni occasione è il ballo. Aspetta. Su Rubai. È una rana? È una rana. Una rana con dei problemi seri. Tutti i balli insieme. Tutti insieme? Sì, ma la bacona. Dito. Dito. Quattro anni. Adesso se lo battano la sedia, è la fine. Piano. Abbiamo finito? Saluta il pubblico. Dì ciao qua. Manda baci. Ma guardaci anche. Non guarda sempre allo specchio. Guarda bene. E guarda sempre allo specchio. È vanitoso. Ha scoperto lo specchio. Non è vanitoso. Insomma. Si sta studiando. Fini di tutti gli spettacoli.